5 4 3 2 1 vai destra 4 tieni subito sinistra 5 lunga vai 50 attenzione sinistra 4 sudosso subito destra 4 avvallamento bravo via 100 sinistra 2 su ponte subito destra 3 lascia via 100 tornante sinistro sporco 20 destra 3 lascia e ritarda destra 3 lunga guarda la se sporca e sinistra 3 taglia sporca per accenno sinistro subito destra 3 lascia diventa 3 via apriti 100 sinistra 5 2 tempi questo è il primo e lì ti arriva al secondo poi 20 sinistra 4 subito destra 3 più taglia 20 tornante sinistro 30 sinistra 4 lunga tieni subito ritarda poco destra 3 tieni 20 via apriti sinistra 5 stacca tornante destro e accenno sinistro per al cartello sinistra 4 lascia e ancora sinistra 4 20 via marcia destra 5 lascia diventa 3 taglia ed è sinistra destra 5 subito sinistra 4 corta continua 5 subito destra e tornante sinistro e destra 5 20 destra 5 corta ancora 20 alla pianta destra 3 subito sinistra 4 20 tornante destro sporco 50 bravo R così sinistra 6 50 albiri sinistra 3 tonda falla meglio di prima chiudi la destra 4 taglia sporca subito sinistra 3 più lascia e via 100 destra 6 70 attenzione al cartello sinistra 4 corta taglia tanto non esagerare 30 destra 3 lunga gira 50 destra 4 nopaletti 30 sinistra 2 gira 2 gira chiudila tanto e non aprirti fino all'ultimo vai apriti e destra 6 30 destra 4 lunga tieni e tornante sinistro 20 bravissimo sinistra 5 meno subito destra 6 e destra 3 tonda rimani concentrato così fino alla fine e sinistra 3 per destra 3 lunga e sinistra 3 2 tempi disegnala bene vai per destra 5 20 sfiora destra 4 subito sinistra 5 per destra 3 subito sinistra 3 20 ritarda poco destra 4 20 sinistra 4 lunga e vai sfiorala destra 4 più via 100 via giù tutto giù 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 sinistra 6 200 destra 5 frena subito attenzione sinistra 2 gira ok ok 20 destra 6 lunga diventa 5 taglia 30 ancora destra 5 taglia 50 sinistra 4 e destra subito sinistra 4 taglia subito molta attenzione destra 2 taglia a gancia per sinistra 4 lunga diventa 3 alla stradina subito destra 4 e sinistra 4 lascia per sinistra e destra 5 subito sinistra 4 più più 4 più più subito destra 4 occhio sfiorala 80 sinistra 5 diventa 4 subito destra 3 occhio l'interno e non tagliare subito sinistra 5 diventa 4 taglia e destra 5 via 100 destra 5 occhio subito sinistra e destra 4 sfiorale 50 occhio staccata scicare tra destra vari tempo con prima 80 sinistra 5 e destra 5 stacca scicare entrata sinistra 80 attenzione buco e dosso sinistra 3 30 apri destra 3 non tagliare 50 e raccomando qua stai largo sinistra 3 20 ricordati sinistra 2 meno 2 meno subito tornante destro bravo continua 2 lungo 20 destra 3 corta 50 tornante tornante sinistro tranquillo non agitare tranquillo subito destra 3 meno 50 sinistra 5 apri là che poi ti diventa 3 e lo sfiori il 3 20 sinistra 3 chiude subito destra 3 chiude 2 taglia in uscita 20 attenzione sinistra 3 lunga chiude 20 tornante destro e sinistra 4 subito ritarda ritarda destra 4 chiude meno per via sinistra 6 70 destra 5 tieni frena subito sinistra 2 e destra 5 lunga subito sinistra 3 meno 20 sinistra 3 corta va bene dai subito destra 3 20 attenzione sinistra 2 tieni subito tornante destro tornante destro continua 4 subito sinistra 3 per destra 4 lascia e via 100 sinistra 5 attenzione a ballamenti e destra 5 via 200 attenzione il cartello frena destra 4 subito sinistra 2 tonda grande per buco destra 4 subito sinistra 4 e destra 4 taglia la tutta via 100 attenzione sinistra 3 bravo hai guardato bene 8 8 41 prima 8 42 no migliorato sì 1 2 1 4 5 11 11 12 13 13 14 15